Percorso a braccetto per Udc e nuovo centrodestra alle prossime elezioni provinciali di Vibo Valencia per un esperimento che potrebbe ripetersi anche in futuro, qualora la strana alleanza Forza Italia-Fratelli d'Italia-Renziani riprendesse corpo. Nelle ultime ore la presentazione della lista che sosterrà la candidatura di Giuseppe Raffaele nella sede del sistema bibliotecario Vibonese, appuntamento che ha visto protagonisti leader dei due partiti Ottavio Bruni e Alfonso Grillo. Appena una settimana fa il nuovo centrodestra e l'Udc nei quadri generali hanno stabilito che nelle competizioni, tutte le competizioni nazionali e regionali bisogna andare insieme perché si è costituito anche il gruppo al Parlamento unico e anche qui a Vibo Valenza abbiamo deciso insieme ai dirigenti dell'Udc di provare questa esperienza all'interno dell'amministrazione provinciale. Anche forzata se vogliamo perché una parte del centrodestra purtroppo ha deciso di andare in altre direzioni anche se non in modo ufficiale con i simboli. Io riconosco un solo centrodestra, quello ufficiale che all'interno di questa lista, dalla parte giusta insieme all'Udc, le aggregazioni o le corporation di altri non mi interessano, io rispondo al partito nazionale e al partito regionale, il nuovo centrodestra è schierato apertamente da una parte. Non sono mancate le polemiche e gli attacchi alla grande coalizione trasversale tra Forze Italia e Renziani che ha ipotecato le prossime elezioni provinciali. Noi non condividiamo né inciugi né compromessi, specialmente da parte di chi si propone come nuovo. Oggi assistiamo a esponenti di partiti che vogliono rappresentare il nuovo e che giornalmente dichiarano che bisogna mettere fine ai compromessi, agli inciugi, ai trasformisti e puntualmente alla prima occasione fanno qualcosa che è veramente paradossale e che in politica risulta una cosa indegna.